Teatro Olimpico dal passato al futuro. L'ultima opera di Andrea Palladio, uno dei suoi più grandi capolavori, oggi torna a risplendere grazie al maquillage del portale d'ingresso e delle mura di cinta del giardino. Un risultato incredibile, frutto devo dire dell'aiuto degli amici del museo che vanno assolutamente ringraziati, che hanno messo a disposizione un fondo importante, poi aiutati dall'amministrazione e il risultato è finalmente il restauro del portale d'ingresso al Teatro Olimpico, cartina di presentazione del Teatro Olimpico, che è il teatro più bello del mondo di cui noi siamo orgogliosissimi. Il teatro più bello del mondo, più di 60 mila euro di investimento solo per questo intervento che ha visto risistemare il portale del Teatro Olimpico di Vicenza e la mura di cinta frontale che guarda Corso Palladio. Quello di oggi è un restauro costato 63 mila euro, a cui ne seguirà un altro nel 2020. Con il completamento della riqualificazione della parte alta del muro, il rifacimento di alcune stuccature e l'eliminazione delle macchie nere degli anni. Insomma, il primo teatro stabile, coperto dell'epoca moderna, torna a risplendere come quando fu inaugurato nel 1585. Il tempo è passato, non la grandezza del Teatro Olimpico.